Laura Carrese, consigliere IDP Lombardia, IDP ha voluto fortemente questo convegno sul tema del licenziamento, un tema che credo sia di fondamentale importanza per tutte le imprese attive nel nostro paese. Beh sì, decisamente è un topic molto importante perché da direttori del personale o gestori del personale bisogna anche saper licenziare perché non c'è un automatismo per nulla e determinare la consapevolezza per fare bene i propri passi, giocare bene le proprie carte direi che è tutto.